guarda che amore che cagnolino sape signora pollo grazie l'olio e l'ucanica ci sono i cotechini abbiamo la pagetta non affumicata si questo qua è fresco questo qua è mezzano questo non piace così ah è una cacciatina da assaggiare con lo zafferano ce l'hai un po' da assaggiare quello cosa va a peso no? 18 questo e 15 con il resto peccini salve 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 Quasi le ocche un po' Complimenti per il banco bellissimo Grazie 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 Saluti Buon lavoro Grazie 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 Grazie. 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 Siamo qua su vuote? E' bene Dio che vivi qua? Tutta bella roba. siamo quasi vuoti eh lo so eh lo so lo so per me siamo verso la fine complimenti perché c'ha veramente io sono venuto anche molto prima l'anno scorso e riconosco perché mia moglie viene sempre in questo periodo se avete un po' di sconto adesso è una roba di natalizia poi fai dei regalini l'anno prossimo fa bene scusi che staguarda la 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 Oh, cosa? Come? Come, 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 come. Come, come, come. Ma la vista, cosa sa che noi. Grazie a tutti. 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 Si può assaggiare un pezzettino? Certo, prego. Grazie. Grazie a tutti. 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 Ciao. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Salve. 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 Ciao. Salve. Ciao. Salve. Ciao. Salve. . Salve. Salve. . 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